buongiorno buongiorno a tutti secondo voi dove sono allora ho comprato una pianta davanti al mio negozio adesso vado su il caffè ancora il caffè l'ho bevuto a casa perché ancora i bar sono chiusi anch'io sono chiusa però sono venuta a salutare il mio negozio ciao ciao a dopo ecco qui la mia pianta grazie ida e sono qui e aspetto il via torneremo presto